Puro Ciriani, secondo me non succederà niente domani al Senato e il Corriano terrà la fiducia. Però c'è un tema che molti senatori vogliono inventare... Abbiamo detto che votano tutti i ministri e quindi che problemi ci sono. Però si dice che... Domani non c'è problema. Domani non c'è problema. C'è un tema, molti senatori infatti vorrebbero fare i viceministri, c'è un rischio comunque che i numeri scendano in Senato. Questo è un tema, nel senso che al Senato i numeri sono abbastanza risicati e quindi secondo me dobbiamo tenere in considerazione che per il taglio dei parlamentari la maggioranza al Senato è una maggioranza non solidissima, ma non per questioni interne al centro-destra, ma per una questione numerica. E come si fa a far contenti tutti in questo caso? Bisogna non far contenti tutti, ma scegliere le persone più capaci, più competenti e cercare di tenere in considerazione comunque anche i numeri alla Camera e al Senato. Quindi anche tra noi eletti? Certo, tra i non eletti ci sono persone, tra i non eletti parlo della Lega, che hanno tutte le capacità, le competenze e requisiti per ricoprire un posto unicario. Potremmo trovarci pillone alla famiglia? No, è pillone.